Ok ragazzi, siamo qui con un video leggermente diverso dal solito, perché infatti quest'oggi non sarò da solo a giocare a Fortnite, ma sarò con una ragazza davvero molto molto forte a giocare a Fortnite. E sto parlando di Ludos, che mi ha carriato per un paio di partite, che adesso andrete a vedere. Io comunque vi consiglio ovviamente di andarla a seguire, perché oltre ad essere molto brava su Fortnite, è anche molto simpatica. Vi lascio il link in descrizione del suo canale YouTube, ma soprattutto lei fa una live al giorno praticamente su Twitch. È attivissima su Twitch, raga, fa live tutti i giorni, ovviamente di Fortnite. E quindi raga, vi lascio il link in descrizione anche del suo Twitch, quindi mi raccomando andate a seguirla. Detto questo arriviamo a 5000 like per un altro video insieme, iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto, e niente, mi raccomando 5000 like, buona visione. Ti faccio vedere qua, questo è Ludos Town. Ci sono 10 case e 50 casse. Ok, a posto. Verrò volentieri in villeggiatura qui. C'è anche un po' di gente ogni tanto, eh. Sì, ma penso anche soprattutto adesso che magari ci passiamo sopra. Magari, sicuramente adesso succede la classica cosa che vorranno andare tutti a Palmetto. Chi trova il pompa ha vinto comunque. Sì, è ovvio. Ma tutti vorranno andare verso Palmetto, vedranno che c'è troppa gente e verranno qui da noi, sicuro. Guarda, sono due team, li ho visti. Sì, li ho visti anch'io. Ma io ho visto la mitraglietta, mi fermo qua. Ok, un atterrato però mi ha colpito. No, è stato il portatile. Un altro portatile. Ok, un altro atterrato. Una, eliminati. Cioè, sto a fare la strage a caso però. Cioè, quella facciata là, attento, io non ho AR. Allora, io ho trovato sto nuovo pompa. Cioè, quello là ha messo là. Mi serve un AR. Allora, aspetta, dove sta? Sopra il portatile? Aspetta. Uh, io ho una AR da darti, se vuoi. No. No, aspetta, arrivo, arrivo, arrivo. Ah, ma vaffanculo. Hai fatto? Sì, sì. Ok. Uh, c'è uno shield qui. C'è uno shield e appunto per te c'ho... Qua c'è una mitraglietta blu, eh. Ah, buono, quella me la vengo a prendere. Aspetta che ti porto la AR, se ti serve ancora. Forzatamente ogni tanto il pump... No, ce l'ho, ce l'ho, grazie. Ok, vai, lo scudo. Grazie, lo shield. Il pump quando prendi bene è ancora sciotta. Sì, 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 se lo prendi bene, sì. Il rift quelli belli. Sì, sì, sì. Che se lo manchi finisci nel vuoto. Esatto, proprio... Guarda, là, là, ti giuro, ci ho avuto... C'era presente tipo lo stuzzicadenti? Un attimo paura. Sì, sì, esatto. Tipo uno stuzzicadenti che entrava nel cuore per un attimo. Dico, ah, no. E che cazzo l'ho mancato. Oh, guarda l'altra safe, Ludo. Ti prego, guarda l'altra safe. No, dai, ma... Ma ci prende per il culo. E non poco. Cioè, eravamo dall'altra parte della mappa letteralmente. Oh, mio Dio. Ah, che bello sto gioco. No, e... Allora, davanti a noi c'è del loot. E c'è anche gente. Ah, è vero, ci stanno pure quelli. Porca miseria. Che ci hanno pure visto. Sì, sì. Brava, Ludo. Sono scemi. Grande, Ludo. Così, allora il suo amico l'ha abbandonato al suo destino. È scappato. C'è altra gente al lago. Sì, l'ho visti. Ma se n'è andato davvero? No, ce l'abbiamo qua sotto, Ludo. Ce l'abbiamo qua sotto. Ok. È là sotto, sotto. Un po' li ho tolto, ma non è bianco, eh. Ok, bravo. E... Il cecchino... Aspetta. Vabbè, no, me tengo le bende. Andiamo, andiamo, andiamo. Me tengo le bende, me tengo le bende, è meglio. Sennò non arriviamo. Ok. Gli ho tolto 30. Oh. Eh, aspetta. E' la miseria. Cioè... Cioè... Eh, mi debbiamo ruotare. Mi serve il materiale. Eh no, per forza. Per forza. Uh. Qua, verso parco. L'ho visto. Sono due. Uno l'ho aiutato un po'. Uno a boli. Ok. Quello là l'ho messo bianco. Penso. Una morta. Questa sta. Ok. No, la safe. Uh. Siamo la safe. Due. Ma... Due contro due, mi so. Un labbro, l'hai visto? Sì, sì, ho visto. A N. Siamo in safe... Tutte e due, mi so. Sì. Sì. Loro di poco, ma ci sono. Anche noi di poco, ma ci siamo. C'è un party di là? C'è un party. Ok. Ti prego? E olè! Ovviamente! E olè! Vabbè, ma ti credo, ma fa tutta una partita così. Allora, avanziamo, avanziamo. Eh, per forza. Che fai? Vabbè, manco tanto stanno spammando. Pensavo peggio. Vabbè, sono pazza. No! Oh, guarda cosa c'è. Eh, il missile guidato, però. Porca miseria. Eh, non lo so. C'è il C4, però. Eh, il C4 me lo prendo. No, eh, non me lo prende. Body? Volevo, dovrebbe cadere. Ah, vuoi me lo ha laserato proprio. Porca miseria. Nove. Grande Ludo, occhio alla granata? Non ci credo. Non ci credo. Cambio. Non ho colpi di niente. Buono. Sì, grande Ludo. Godo. Godo. Grande Ludo. Senza vita, senza un cazzo. Oh, GG. GG Ludo, bella lì. Comunque, quel pompa ci mette troppo a ricaricare. Troppo, troppo, troppo. Eh, sì. Mamma mia, deve buttare giù i bulloni. Cioè, sì, i bulloni proiettili e si deve rimettere. No, quello è vero, quello è vero. Veramente. Forse è la finestra amoregna. Buono. Ah, quindi è andato giù subito. Eh, l'ho voltato prima. No, però dico... Non c'è al compagno. Però sento altra gente dentro. No, c'è altra gente. Ok. C'è una trappola all'ingresso. Ok. Ah, vabbè, di là, ok. Ok. C'è, non ti conto la malattia mentale di questi? L'hanno fatto una trappola là sopra. Eh, ma che gente compra? Altre gente? Arrivo. No! Da dietro. Aspetta, provo a farmi questi. E dove vado però che non c'ho materiale? Quello là è una vita. Quello morto? Il problema è che io non c'ho materiali. Ah, meno male, è sceso lui. È sceso lui. Qua, 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 qua. Ok, ha eliminato. Bella. Se non scendeva non lo eliminavo. Meno male che è sceso, perché avevo finito i materiali. Eh, io pure ne ho 50. Vabbè, cioè non proprio qui. Oddio, mi ha visto. Vabbè, arrivo, arrivo, arrivo. Non t'ho preso, arrivo. Dove sono? Sulla casa? Io ho fatto 160 col cecchino. Cioè, col coso stavo per piangere. Ho avuto più città lacrimuccia. Ho avuto 160. T'ho messo un medikit qua. Thank you. Cioè, siamo già a dieci. Siamo già a dieci, Ludo. Boh. Oddio, che spavento. Oh, tra poco per me il carrello mi butto nel fuoco. Qua c'è la pista per farlo. Ah, sì, qua sì. Calcola, sei spostato all'ultimo. Eh, è sempre così. Io ho fatto l'orecchino. Fermo, fermo. Sparo. Fa mezzo millimetro. È dietro, 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 dietro. È sempre così, mo facciamo l'akbar. Sì, sì, mo il panino, come al solito. Eh, prendiamo questo. Sono qua due team dietro. Eh, questo è un problema. Allora, quello gli ho fatto un tap. Ma che se sono giampati? Se sono giampati? Ma what? Se sono giampati e sono ritornati là, fammi capire. Eh, vuoi darsi intorno, mi sa. Probabile, però... Cioè... Ma le trappole dentro, eh? Sì, sì, viste. Ti sta curando l'amico, Pusha. Ho visto il chug. Buono, io ho perso tutta la vita adesso. Morto? No, perdonami. No, quello si è giampato. Si è giampato qua, dietro. Non è scappato. Io più che altro che sto dando un'occhiata pure dietro. Ah, no, pure a sinistra. Pure a sinistra, pure a sinistra, Ludo. Io mi tiro il medikit un attimo. No, abbiamo gente dietro in alto. Oddio. E io mi sono buggato. Mi sono buggatissimo. Ok. Questo non c'è via roba malaccio, eh? Occhio pure di là. Io me lo tiro il chug. Sì, 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 tira. No. Cazzo, cazzo. Vai via, vai via. Apri il tetto. Aveva la scala, vai via. Ma io, infatti, a quelli là dietro stavo a tenere l'occhio, perché... Cioè, stavano messi proprio... Uh, quello che fa? Ma matti, 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 matti. Avevamo se sono buttati. Uno l'ho atterrato. Guarda un pagami che uno ho fatto. Ma che hanno fatto? Ma sono scemi. No, l'ho allisciato. Entra in safe? Sì, infatti, assolutamente sì. Vedi qua, se c'essimo avuto qualche granata. Guarda quello quanto è morto. Tra 3, 2, 1. Quello lo rialza adesso, quindi attenta dietro. Buono. Eh, me lo alza. Ah no, a me quello che avevo atterrato me l'hanno... Cioè, è morto. Allora, io pusho, perché tanto del FAMAS ne sono rimasti pochi colpi. Scello io? Ah, dall'alto l'hanno ucciso e lo stai a sparare a te. E quelli l'ho knockato io. Te ne ho knockato uno. Qualche colpo dell'assalto, Ludo, ce l'hai? Di cosa? Assalto. Sì, vieni. Ok. Bodi di nuovo? Eh, io pure, mi sa. Un'altra l'ho preso. Ok, atterrato. Eh, io direi... Eh, però che mi fai? Ah, li stanno a pushà. Li stanno a pushà da dietro. Eh, li hanno già pushati. Me l'hanno eliminato. Eh, già. No, cavolo. Veloce, 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 veloce. Sono due team diversi. Sì, per fortuna sì. Ok. Mi sono arrivato dall'alto. Sì, grande Ludo. Ah, è tutto qua. Bella, bella, bella questa, bella. Bella. Eole, gg. Questa è stata easy. Sì, sì, questa sì, questa sì. Questa è stata più tranquilla. Sì, quasi qua, proprio. Ok, va bene. Ah, vedi, un team. Ok, è atterrato. Oh, guarda quelli che volano. È morto. Morti, ok, va bene. Ci sta. Ok, va bene.